Ecco, Ministro, oggi si è parlato appunto molto che è la vita, il futuro della famiglia e di tutto in questo senso. È vero che è stata un'esplosione, è vero che si parla di prevenzione, ma ci servirebbe forse una soluzione immediata anche da un punto di vista della giustizia per questi casi, diciamo? La legge è proprio sulla giustizia e quindi è sulla prevenzione, quindi sulle misure cautelari, sul braccialetto elettronico, sull'intercettare immediatamente le situazioni attraverso i reati spia, quindi da questo punto di vista il disegno di legge ancora deve iniziare il proprio percorso, io sono sicura che avrà degli effetti. Non tutte le violenze però si possono prevenire attraverso una legge. Noi abbiamo anche su questo un'iniziativa che metteremo in campo in autunno, un'azione di sensibilizzazione nelle scuole insieme al Ministro Valditara, portando proprio le testimonianze, portando i casi e cercando di far capire ai ragazzi che cosa è effettivamente la violenza e quanto distrugga le vite. Grazie.